Va bene, parliamo un po' di calcio perché tanto le altre cose belle che la Ternana farà non ve le posso spiegare tutte adesso, la giornata finisce. Per quanto riguarda il calcio io voglio risottolineare, dato che ho sentito sempre voci in giro, che Lugarelli nella mia squadra, nella mia Ternana, farà 38 partite. Quindi farà anche tutte le partite che mancano per quanto riguarda quest'anno. E questo non vuol dire che a fine anno Lugarelli se ne andrà, organizzerà semplicemente, sta organizzando quest'anno l'anno che verrà. Se quest'anno per caso non otterremo i risultati che abbiamo in testa, che non vi voglio dire, parlo di me, di Lugarelli, di Tagliavento, di Leone, vuol dire che noi li faremo l'anno successivo. E quindi Lugarelli sta organizzando quello che c'è. Io non vado alle partite? Solo pura strategia. Ogni cosa va fatta nella maniera giusta. Delle volte io servo presente, delle volte io non servo.